Lo Spirito Santo abita in noi e dentro di noi è una delle riflessioni proposte da Papa Francesco nel corso degli ultimi incontri con i fedeli. A Trani il convegno pastorale diocesano sul tema leggere il presente con occhi di Pentecoste, relatrice e la teologa Assunta Steccanella. La morte di Gaetano Michele Samuel sbatte in faccia a tutti noi un'amara realtà, così Monsignor Ferretti, arcivescovo di Foggia, durante i funerali dei tre giovanissimi tifosi del Foggia. Si attende la firma dell'accordo per la coesione fra Regione Puglia e Governo. Il patto porterà nelle casse regionali circa 6 miliardi di euro. Il grano arso vola in Svizzera collocandosi tra le eccellenze della Regione, grazie a due chef stellati di Canosa di Puglia. Buonasera e benvenuti al secondo appuntamento con l'informazione di Teledeon. In che modo lo Spirito Santo opera nella Chiesa? È una domanda alla quale Papa Francesco ha risposto nel corso di uno degli ultimi incontri con i fedeli. Il Pontefice ha poi concluso, lo Spirito abita in noi e dentro di noi. Sentiamo un breve stralcio. Passiamo da ciò che sullo Spirito Santo ci è stato rivelato nella Sacra Scrittura a come Egli è presente e operante nella vita della Chiesa. Ci domandiamo, che vita dà lo Spirito Santo? All'inizio nella creazione il soffio di Dio dà ad Amo la vita naturale. Da statua di fango lo rende un essere vivente. Ora, nella nuova creazione, lo Spirito Santo è colui che dà ai credenti la vita nuova, la vita di Cristo, vita sopranaturale, da figlio di Dio e vita eterna. La fede ci libera dall'orrore di dover ammettere che tutto finisce qui, che non c'è alcun rischio, riscatto per la sofferenza e l'ingiustizia che regnano sovrane sulla terra. Se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, permesso del suo Spirito Santo che abita in voi. Lo Spirito abita in noi, è dentro di noi. Coltiviamo questa fede anche per chi spesso, non per colpa propria, né è privo e non riesce a dare un senso alla vita. E non dimentichiamo di ringraziare colui che con la sua morte ci ha ottenuto questo dono inestimabile. E' tornato alla casa del padre, dopo una lunga malattia il diacono Paolo Serafini è stato uno dei fondatori della comunità Gesù Risorto del rinnovamento carismatico cattolico. Dopo una lunga malattia si è spento all'età di 78 anni Paolo Serafini. Ha esercitato il suo ministero diaconale nella parrocchia Santissimo Sacramento a Tordeschiavi a Roma. E' stato uno dei fondatori della comunità Gesù Risorto del rinnovamento carismatico cattolico, associazione internazionale di fedeli laici diffusa in tutto il mondo. Carisma fondamentale della comunità è quello di vivere e annunciare la presenza di Gesù Risorto in mezzo al popolo. Paolo Serafini è stato uno dei primi sette diaconi ordinati a Roma dopo 1500 anni. A Trani il convegno pastorale diocesano sul tema leggere il presente con occhi di Pentecoste. Sentiamo. Porre le premesse, individuare e condividere le linee portanti del cammino da perseguire. E' questo l'obiettivo del convegno pastorale diocesano, appuntamento annuale di rilievo per la comunità ecclesiale dell'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie sotto il profilo spirituale, pastorale ed organizzativo. L'assise, momento propedeutico ad un altro percorso previsto nei mesi di novembre e dicembre che va sotto il nome di percorso diocesano di formazione, vede la partecipazione di sacerdoti, diaconi, religiose e religiose e laici provenienti dalle sette città della diocesi, ossia Trani, Barletta, Bisceglie e Corato, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli. La postura determinante per leggere la parola di Dio e la storia presente è l'ascolto. L'ascolto sia del Signore nella sua parola ma anche di quello che abbiamo intorno, dei fratelli e delle sorelle, degli eventi della storia. Mettendo in dialogo queste due dimensioni e ascoltando profondamente se stessi si possono individuare le coordinate che ci aiutano a interpretare la storia di Dio, la parola di Dio e la storia presente, ma mai da soli. Questa cosa si fa insieme. Eccellenza, qual è il senso di un convegno pastorale diocesano? È il momento in cui l'intera chiesa locale, la famiglia, si ritrova insieme per condividere alcuni aspetti importanti del vissuto ecclesiale, come stiamo imparando sempre di più in questo tempo di cammino sinodale, metterci in ascolto gli uni degli altri, attraverso questo ascolto cercare poi di intuire o ascoltare lo Spirito Santo. A partire da questo, poi sempre con l'aiuto dello Spirito Santo, si cercherà di rendere il tutto concreto attraverso delle scelte che segneranno poi il cammino durante l'anno pastorale. La morte di Gaetano, Michele e Samuel sbatte in faccia a tutti noi una mara realtà. Lo ha detto Monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo di Foggia, nel corso dei funerali per i tre giovanissimi tifosi del Foggia, scomparsi in un incidente stradale sulla Potenza Melfi domenica scorsa. La morte di Gaetano, Michele e Samuel sbatte in faccia a tutti noi una mara realtà, come un duro schiaffo sul volto di chi è più giovane. Non è giusta la loro morte. Sono le parole pronunciate dall'arcivescovo di Foggia e Bovino, Monsignor Giorgio Ferretti, durante l'omelia per i funerali dei tre giovani tifosi del Foggia, morti nell'incidente stradale avvenuto a Potenza domenica scorsa. Le bare bianche di Samuel del Grande, di 13 anni, del 17enne Michele Biccari e di Gaetano Gentile, di 21 anni, sono state sistemate sul verde dello stadio Zaccheria e ricoperte di fiori e sciarpe di diverse squadre di calcio. Siamo riuniti in questo che dovrebbe essere un luogo di divertimento e sport e lo abbiamo trasformato nella cattedrale della nostra città, ha aggiunto Ferretti, spiegando che siamo alla ricerca di una parola buona, di vicinanza, ma è solo Dio che ci può consolare. Cara Foggia, grazie per essere qui, ha continuato. Grazie per esserti fermata in questi giorni ed esserti unita al dolore di queste tre famiglie. Grazie ai giovani per il coraggio di guardare in faccia la morte, che può essere vinta da un popolo che celebra la resurrezione del Signore Gesù. Lui, ha concluso, alla fine della nostra vita ci accoglierà nel suo regno eterno. Si attende a giorni la firma dell'accordo per la coesione tra la Regione Puglia e il governo. Il patto porterà nelle casse regionali circa 6 miliardi di euro. L'argomento è stato al centro dell'ultimo appuntamento di A-Sud, il ciclo di talk promosso da Ernst & Young nel sud Italia, che si è svolto a Barletta. La Regione Puglia è una regione meridionale che ha speso nel ciclo che si è concluso, il 31-12 del 2023, tutte le risorse europee a disposizione. L'FSC, che io mi auguro possa essere firmato con il governo nazionale da qui a pochi giorni, considerato che solo la Puglia e la Sardegna sono le uniche due regioni rimaste ancora per la firma dell'accordo nazionale di coesione, saranno risolse che andranno a consolidare una direzione di marcia che ha preso la Puglia, soprattutto negli ultimi 20 anni. L'economia locale è sicuramente importante, ma perché si cresca ancora di più e ancora meglio rispetto a quello che è stato fatto negli ultimi tempi, soprattutto il 2023 è stato un anno record per gli indici di crescita della nostra regione, abbiamo la necessità di sviluppare e quindi di diminuire quel divario che poi può dare alle nostre imprese e lo slancio necessario per primeggiare anche dal punto di vista imprenditoriale. Abbiamo visto quanto l'export pugliese sia cresciuto di più della media nazionale, quindi credo che una volta che, grazie all'utilizzo di questi fondi, noi veniamo messi nella posizione di lavorare quantomeno ad armi pari con altre regioni o quantomeno cercare di avvicinarci, daremo sicuramente un risultato eccellente all'economia non solo pugliese ma anche italiana. Questi fondi di questione serviranno per appiattire anche la differenza tra le regioni, investendo in cose, investendo nel futuro, nei talenti ad esempio, quindi nelle università, nelle abitazioni per gli studenti, che non trovano adesso i fuorisede, che sono circa 16 mila, parlo di Bari, non trovano un posto in cui poter studiare, poter dormire, poter vivere e quindi questo diventa un problema ed è un gap importante da colmare. Tutto quello che ci consente di fare risanamento reti, innovazione nella nostra distribuzione dell'acqua, miglioramento di quelli che sono l'energia, la produzione di energia, quindi sempre abbassamento dei costi, è per noi un must, quindi avremo investimenti importanti che saranno devoluti a fare queste cose che sono necessarie perché cresca l'ottopilità. Una volta che è stato definito il piano, come è stato definito, la regione è indirizzata a 450 progetti, il ruolo di S&Y Young è quello di fare in modo che questi progetti proseguano con la velocità e l'accelerazione che ci si aspetta. Cioè cercare di capire come è meglio spendere i soldi in funzione dell'impatto che hanno le singole azioni rispetto agli obiettivi che si sono dati. E quindi è un esercizio su cui noi siamo pronti in prima linea ad aiutare la regione. In Puglia i consumatori sono costretti a tagliare il carrello della spesa a causa del potere d'acquisto ridotto e con conseguenze sulla filiera agroalimentare. A tracciare lo scenario è col diretti regionale in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione. Sono quasi un milione i pugliesi che vivono in condizioni di povertà relativa e non riescono a portare in tavola un pasto completo e di qualità. Uno scenario agghiacciante questo, tracciato da col diretti regionale in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione promossa dalla FAO che si celebra il 16 ottobre. La povertà alimentare, secondo quest'analisi, è cresciuta per effetto della pandemia e della guerra, con l'aumento dell'inflazione che ha colpito duramente il carrello della spesa e messo in difficoltà un numero crescente di famiglie. Nell'elenco dei nuovi poveri c'è chi ha perso il lavoro, i piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere le proprie attività. Ci sono poi le persone che non godono di particolari aiuti pubblici e chi non ha nessun risparmio. Davanti a questo scenario, col diretti è scesa in campo attraverso iniziative di solidarietà, come la spesa sospesa, attiva nei mercati di Campania Mica, dove i cittadini possono donare prodotti alimentari a chilometro zero, destinati ai più bisognosi. Sono in molti i mercati contadini, conclude col diretti Puglia, dove si lasciano anche prodotti freschi invenduti a organizzazioni caritatevoli che passano a prenderli per utilizzarli nelle mense. Ma questo non basta, perché la povertà alimentare continua a crescere in Puglia, come nel resto del paese, da cui la necessità di trovare soluzioni più strutturate è ad ampio raggio. E adesso cambiamo argomento al via. La terza edizione della Fiera Lettori alla Pari, è la manifestazione ospitata a Ruvo di Puglia e Corato, dedicata alla lettura e all'editoria accessibili. Il tema è cambiare lo sguardo. I dettagli nel servizio. Pochi giorni per provare a mettersi nel corpo di un altro, una prova fatta però anche di difficoltà, perché la fiera Lettori alla Pari, ospitata a Ruvo di Puglia e Corato, intende far comprendere quanto sia complesso vivere un limite fisico che spesso ha conseguenze nell'integrazione sociale. La terza edizione della manifestazione, dedicata all'editoria e alla lettura accessibili, ha come tema cambiare lo sguardo, specie sui temi dell'inclusione e della accessibilità. Il senso è quello di far conoscere a tutte e tutti i libri accessibili, anzi l'accessibilità in genere, però soprattutto i libri accessibili, come strumento di inclusione reale dei ragazzi e delle ragazze attraverso l'adattamento di questi libri in forme diverse, che possono essere quella del libro audio, per chi non vede, o del libro tattile. È importante diffondere la cultura di questi libri affinché le conoscono le istituzioni, anzitutto, e in secondo luogo le scuole, per poter veramente rendere la nostra Puglia, anzitutto, questa società per tutti, realmente. Sono tante le case editrici e le associazioni che partecipano alla manifestazione, che offre anche appuntamenti utili a sperimentare concretamente la vita di chi ha una disabilità. Le tante sperimentazioni che potremo fare, dalla passeggiata sensoriale per scoprire come una città deve essere accessibile dal punto di vista anche dei suoni e dei rumori di una comunità, di un quartiere, perché le barriere architettoniche sono anche quelle, le barriere sono anche quelle per persone che hanno delle difficoltà, non soltanto quelle strutturali. E anche l'esperienza, ad esempio, dello showdown, giocheremo a ping pong come giocano i non vedenti, quindi non vedendo anche noi, quindi questa idea di cambiare lo sguardo mettendosi in corpo l'occhio dell'altro. A Ruvo è stata allestita la mostra intitolata A corpo libero, esplorazioni sul desiderio, scatti per guardare le persone con disabilità in modo diverso nella dimensione della relazione, della sessualità e dell'affettività, spesso percepite come distanti dal mondo della disabilità. Qual è il messaggio che vuole, possa essere interiorizzato da chi guarda questa mostra? Direi fondamentalmente proprio questo, di guardare le persone con disabilità come persone nella loro globalità, non guardare le persone solo dal punto di vista della disabilità, del deficit, ma di ricollocarle in una dimensione di persona globale, aperta e disponibile a tutte le esperienze, attraverso le condizioni che però la società può creare, perché le persone possano vivere tutte le gambe del nostro stare insieme, dell'esperienza umana. Il grano arso vola in Svizzera, collocandosi tra le eccellenze della regione, grazie a due chef stellati di Canosa di Puglia. Scopriamo di più nel servizio. E' l'oro nero di Puglia e si colloca in Svizzera tra i prodotti tipici che raccontano la storia, le tradizioni, i piatti più antichi del territorio, grazie allo chef stellato Gerardo Metta e il pizzaiolo protagonista al campionato del mondo pizza senza frontiere di Rimini, Francesco Luisi. I due giovani canosini partiranno per un'esperienza all'estero, portando in valigia la cultura legata alla farina tutta pugliese, in uso nelle vecchie famiglie contadine. Il grano arso è una farina nobile ad oggi perché anche se a volte non abbiamo l'abitudine di mangiarla spesso, intanto è una farina che ha una valorizzazione molto alta, anche a livello di prezzo ci costa il triplo di una farina normale. A livello di valori nutrizionali è una farina molto più leggera della farina classica, quindi lavorandola possiamo creare un prodotto più leggero e molto più digestibile. Alcune ricette sono state presentate nel corso di una degustazione a Canosa che ha visto la partecipazione di imprenditori, istituzioni e associazioni, un modo per far rivivere la Puglia attraverso il prodotto principe, il grano arso. Un menù composto dall'antipasto al dolce che contiene comunque quello che è la farina proprio di grano arso. Il grano arso è un piatto povero, dobbiamo raccontare proprio le origini del grano arso, quindi parliamo del primo del 400, dove comunque la Puglia, il tavoliere delle Puglia è stato il primo a importare il grano. Io non posso essere solo che onorato di questi due ragazzi che comunque così giovani hanno preso a cuore questo progetto e di cui sono contento che una parte del nostro patrimonio va a conoscere una nuova terra, e cioè la Svizzera. Nel corso della giornata è stata conferita una targa allo chef Gerardo Metta per l'impegno mostrato nella divulgazione della cucina pugliese all'estero. Abbiamo avuto la nascita di un'accademia del grano arso a Canosa. Degli imprenditori hanno dato input a questa accademia che ha l'intento di formare le nuove generazioni alla produzione e alla lavorazione del grano arso e nello stesso tempo valorizzare un prodotto principe della nostra cultura, della nostra tradizione. Anche ad Andrea in questi giorni la mostra Com'è rivestita contro la violenza sulle donne è promossa dall'ordine degli Avvocati di Trani. I dettagli nel servizio. Raccontare storie di violenza attraverso l'abbigliamento delle vittime per abbattere gli stereotipi nei confronti delle donne. E' questo l'obiettivo della mostra dal titolo Com'è rivestita, ideata dall'Associazione Sud-Est Donne e promossa dal Comitato per le pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Trani nell'ambito dell'intero territorio di competenza del Tribunale tranese. Infatti, in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre l'iniziativa ha lo scopo di intrecciare le comunità cittadine coinvolte con un'attenzione particolare al mondo della scuola e ai giovani. Intanto si inserisce nel contesto del Festival della Legalità ma è fortemente voluta dal Comitato per le opportunità proprio per dare un segnale per contribuire alla formazione e all'informazione che non deve mai mancare su quelle che sono non solo i diritti delle donne ma all'abbattimento degli stereotipi come rivestita fa riferimento al solito stereotipo per cui se c'è un reato di violenza se c'è un reato di stupro ovviamente la prima domanda che si fa è il concentrarsi sulla vittima piuttosto che sul colpevole come rivestita l'abbattimento di quel processo di vittimizzazione secondaria che non dovrebbe ahimè oggi più esistere alla luce del Codice Rosso alla luce dei correttivi del DDL Rocella e dell'innastrimento delle pene concentriamoci su quelli che sono i colpevoli non sulle vittime. Come può l'avvocatura abbattere gli stereotipi nei confronti delle donne? Allora l'avvocatura li può abbattere perché l'avvocatura ha nel suo DNA una funzione che la funzione sociale è costituzionalmente garantita quindi l'avvocatura in quanto parte di una comunità può contribuire nell'ambito della formazione della comunità stessa della crescita delle persone che costituiscono questa comunità può sicuramente dare un contributo con il proprio specifico con la propria competenza con la propria qualificazione professionale alla formazione delle persone a che la parità l'eliminazione di ogni forma di discriminazione possa essere non soltanto un sogno ma possa essere qualche cosa che diventi realtà. Ed era questo il nostro ultimo servizio la seconda edizione del telegiornale di Teledeon termina qui grazie per essere stati con noi vi auguriamo una serena serata in compagnia dei nostri programmi televisivi Grazie a tutti